fratello maggiore di Carlo e parente di Eleonora. Debuttò giovanissimo sulle scene teatrali come attore brillante dai primi anni venti riesci ad imporsi recitando con Aristide Baghetti, Emma Grammatica, Ugo Farulli, Marga Cella e Gemma Bolognesi. Nel 1935 entrò nella compagnia Spettacoli Eliseo diretta da Gero Zambuto accanto ad Anna Magnani. Pina Renzi e i fratelli Giorgio e Guido de Regge. Sul grande schermo debuttò all'epoca del mutuo con tre film nel triennio 1920-1922. Quindi riprende l'attività nel 1933 e nei dieci anni seguenti partecipa a un numero ragguardevole di pellicole. Dopo il matrimonio avvenuto nel 1945 con Maria Avantini rallenta notevolmente l'attività artistica. Ritirandosi dal cinema nel 1952, è morto a Bologna all'età di 80 anni.